Ciao ragazzulli da Sampo 83 eccoci qua su minecraften in tedesco no noi siamo in tedesca perché la tedesca della germania con newton e noi siamo in tedesca perché avete abbiamo messo tre bei stenderdi che ondulano col vento e praticamente li abbiamo fatti con la lana colorata se io più o meno si muovono un po dai allora sì dai abbiamo fatto questi qua così è più bella la villa così la villa a caspiterina si sta facendo buio andiamo a dormire andiamo dai 20 milioni di di uova di uova se mi date 20 milioni di uova ve le regalo allora perché non vado ok andiamo a dormire e ci siamo svegliati vai anche io io mi faccio un tuffo in piscina prima così mi sveglio bene ti sei tolto le ciabatte ah che bene andiamo è vero è vero off camera ci siamo fatto un bel caschetto in diamante perché abbiamo trovato 16 diamanti la bellezza di 16 diamanti che roba allora il portale del land è qua noi questo che cosa vogliamo fare vogliamo fare un ponte che unisce tutto cioè praticamente quando usciamo dal netherland lake ma cavolo boh non mi ricordo mai come si chiama il portale è la dove siamo la quindi ci facciamo un bel ponte che ci unisce praticamente insomma perché è baggato si da portale perché in teoria dove dovrebbe uscire il portale che abbiamo a casa dovresti uscire lì sempre nel portale lì e invece si è baggato e se lo spacchiamo pieni di bug quale questo si spacca anche quell'altro scommetto boh ma meglio così siamo più vicini all'isola dei funghi dai andremo anche la un giorno quindi facciamoci un bel ponte allora che facciamo io comincio a spianare qua facciamo dritto per dritto seguiamo la costa seguiamo la costa dai seguiamo la costa dai o facciamo un bel tunnel ma un tunnel ho paura costo orientale come costo orientale cosa vuol dire niente costo orientale no no ho capito bene cos'è allora io mi prendo un po di materiali ma quasi quasi ci facciamo un tunnel si facciamo il tunnel dai mi ispira di più tipo sull'acqua no 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 dritto dritto così casomai troviamo qualche bel materiale vedete ho già trovato il carbone il carbone ho trovato air carbone la carbonella bene allora noi fai un ponte fai un ponte fai un ponte meglio meglio un ponte dai fai un bel ponte dai che poi fai i gradini qua che scende anzi non lo faccio a livello qua dai tuo che livello stai così si dai no 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 io comincio a scavare qua dai mi metto qua e vado dritto di là che così arriviamo più o meno circa magari ci facciamo un domani anche anche una bella ferrovia no è che però bisogna farà tutta curva la mega fornace possiamo farla magari prossimo gameplay dai così già possiamo che abbiamo già un'idea di fare prossimo gameplay faremo la mega fornace richiesta da diutton quindi noi andiamo avanti col tunnel così off camera è qua l'ingresso eh lo vedi ti metto una porta dai no 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 ma io penso che faccio il ponte sempre dritto per di qua dove no vieni di qua vieni di qua boh dai tanto ci decidiamo dai allora eccoci qua il ponte è praticamente finito noi quando usciamo dal nether si esce da qua e abbiamo creato questo bel ponte in mattone di pietra che è percorribilissimo in 0 2 secondi si buon correndo dai si sta poco così possiamo arrivare subito a casa senza nuotare senza fare tanti casini facciamo un po così potresti veder fuoco qua a quest'albero ok subito detto fatto detto fatto detto anche questi anche questo gli do fuoco a tutto ah beh va che te prego oh no lì guarda quanto sono furbo oh e dai eh spegniti ola è fatta risolto già fatto quasi eh madonna ma non funziona tutto bene sto acciarino eh mi dà fuoco dove non deve lì dai fuoco lì poi non lo sai usare poi non va vai vai incendiamo tutto la vedi io vado qua perché dà fuoco quello sopra se to guarda ma va che roba oh hai delle scalette si pieno sono pieno circa vai ma in quanto sono tutta la eh però l'ho messa a contrario è tipo una stradina io nelle casse nella casa ho messo si nelle casse della casa ho messo sicuramente un coso un ho messo la pala perché non ce l'ho più si però dobbiamo venire per di qua adesso eh si dobbiamo venire per di qua Newton ed è bravo il brutto è che lo fa solo dove c'è l'erba quindi in che senso me lo fa il sentierino ecco a me cioè se c'è l'erba me lo fa il sentiero bisogna anche alzare i muri di protezione vabbè non tanto non fa niente ma qua ormai siamo già a casa punto qua ancora un po' così vedi buon qua gli alberi stanno bruciando io metto i scalini uno due e qua come saliamo? qua? eh devi pareggiare però qua fai un bel pareggio dai eh fai un bel pareggio poi finiamo la ok allora siamo praticamente addirittura ad arrivo il sentiero è pronto il ponte è pronto l'abbiamo terminato eh boh vabbè la prima parte è quella più interessante perché adesso praticamente faccio una prova dai vado entro nel nether nether netherland buh chiamatelo come volete entro ah c'ho le porte è vero eh ormai aspetta che ci metto subito un due porte che ce le ho così se abbiamo compagnia subito appena entriamo almeno possiamo vedere chi c'è dall'altra parte perfetto quindi adesso io riesco comoda la porta così uscita oh là vedete uh comodissimo comodissimo ragazzi guardate che roba senza nessun problema noi arriviamo verso casa ovviamente penso che sarà da illuminare forse chi lo sa vediamo sì sì appunto un po' di torce faremo uno stack di torce magari due mettiamo tanto carbone ne abbiamo in abbondanza qua andiamo su per i scalini tac siamo arrivati a casa qua ci sono i buchi del creeper che esplodono infatti boh boh non c'è problema bene che decidi prima di concludere di fare queste patate che hai piantato dato che mi hai piantato le patate è pronto qua abbiamo pulito vediamo no no non attivo non attivo ma come fai a capire che sono pronte sì ma come fai perché il grano è verde scuro è più alto ah ok allora vai dai attiva che faccio vedere da qua dai no no ah sì entra entra guarda vedi entra giusto una non è pronta ma vabbè intanto ah vabbè ah ho capito così sono pronta allora ah rimani lì che così no 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 vengo qua vengo a vedere da qua dai vengo a vedere l'inondazione bravo vai 3 to 1 vai newton vai newton ecco le patate ragazzi le patate in arrivo ce le facciamo fare tutto il campo di patate adesso eh volendo anche sì sì dai seminiamo solo patate dai aspetta aspetta ho già preso eh lo so vedo sì no io sto buttando giù quelle che ho io ah dai te le prendi le tu seminale tu io vado a fare un po' di lana guardate qua l'allevamento ah il cane mio ah adesso si siede però eh prima non si sedeva eh 44 patate no di più di 44 ma veramente no 33 patate la dovrei fare in teoria pianta pianta piantala sì loro dicono vabbè fai un po' dai magari la fai solo patate lo stesso dai casomai prossimo così col prossimo raccolto facciamo uno intero tanto grano ne abbiamo a bizzefe ok dai fatemi passare ok allora il cane mo si alza si alza si siede boh ragazzoli eh il tempo vola come sempre eh come sempre vi ringrazio di seguirmi commentate scrivete vi è stato un bel mi piace eccetera eccetera il video può adesso dire che finisce qua quindi ciao ragazzoli e da Newton ciao